Io sono Walter Tessaris, in arte Acoustic Spirit, sono un chitarrista acustico, come vedete. Da 16 anni questa è la mia professione, portare la mia musica in strada, in mezzo alla gente, nel palco più grande del mondo. Ho deciso di fare questo perché mi piace fare la mia musica, mi piace fare le mie composizioni, poi faccio anche qualche cover, qualche cosa di conosciuto, ma sempre rivisitata da me. E' sempre una difficoltà riuscire a entrare nei locali, nei posti e fare qualcosa di personale. E allora ho deciso di portare in mezzo alla gente quello che voglio fare e insomma il tempo mi ha dato ragione.